L'ente territoriale intermedio provincia di Vicenza estrae dal cilindro di inizio anno del resto come di consueto la montare in denaro destinato alla manutenzione straordinaria delle strade che gestisce tramite la società viabilità e che costituiscono la rete viaria territoriale. 68 i cantieri programmati da dare in appalto alle ditte specializzati per i lavori previsti al via in primavera. Sono circa 4 milioni di euro messi a disposizione che sono istanziati per venire gradualmente impiegati nel corso del 2021. Tante le strade di montagna interessate tra cui quella della fratellanza che collega Bassano e Asiago, quella del costo con postazioni aperte in ogni angolo della provincia america. In programma come accennato sono 68 i cantieri per un totale di 44,3 chilometri di tratti stradali interessati e oltre 335 mila metri quadrati di nuovi strati di pavimentazione. A breve la gara d'appalto che individuerà le ditte che eseguiranno le opere previste per la primavera e che dureranno in media 4 mesi ogni lotto.